Il secondo turno infrasettimanale di questo campionato tra Casa del Diavolo e Pietralunghese si gioca nel sintetico di Ponte Valleceppi. Il risultato è in favore dei padroni di casa che concludono sul 2-1. La prima azione degna di note al settimo del primo tempo con Messineo che ci prova da fuori aria ma la palla sfila sul fondo. Risponde la Pietralunghese al 23 del primo tempo con Bantango che in azione personale dal limite si sistema la palla e prova la giocata ma la palla stessa scende tardi ed esce di poco. Al 29 sono i locali con Messineo ancora che raccoglie sulla destra e fa partire un tiro che di poco finisce alto. Al 33 è Fabri che dal corner lancia in aria. Fumaria ci arriva ma non inquadra la porta che quindi finisce sul fondo. Al 36 c'è la svolta della partita con un fallo su Bantango della Pietralunghese e quindi l'arbitro decreta un rigore. È il capitano Eramo che si porta sul dischetto al 38esimo ma il tiro è molto impreciso e un lancio sicuramente da dimenticare. La palla finisce alta. Al 41esimo è Cappanelli della Pietralunghese che fa rigore sui locali e quindi l'arbitro decreta il tiro dal dischetto. Questa volta Burkut va al tiro e non sbaglia quindi locali in vantaggio di 1 a 0 al 42esimo. La Pietralunghese però non si arrende. Al 43 è Fabri che in cross va alto per Eramo che tira ma il tiro viene respinto. Subito dopo ancora Gaggioli che ci riprova ma la palla viene ancora respinta. Passiamo al secondo tempo con le riprese di Mario Sacchetti. È subito la Pietralunghese che ci prova al sesto minuto con Gaggioli che va al cross dalla sinistra. Fumaria sul pallone ma impreciso. Al settimo i padroni di casa rispondono con Broccatelli impegnato che impegna Mosca alla parata. Al trenticesimo Casciari appena entrato in campo al posto di Antonini è subito in azione. Va verso Mosca che allontana con le mani. Al 22 gli ospiti ci provano. Dalla sinistra con Gaggioli. Bantango in aria ma non è preciso. Al tiro che finisce alto. Ma ecco che al ventiquattresimo arriva il pareggio dei locali. Fabri in azione. Si porta in aria. Va al tiro ma la deviazione precisa di Gaggiotti decreta un autogol. Al 27 Piras che risponde dalla sinistra con un rassoterra teso ma la palla finisce di poco sul fondo. Al trentesimo arriva il 2 a 1 dei locali firmato da ancora Casciari che raccoglie dalla sinistra e piazza la palla alle spalle del portiere ospite. Al quarantottesimo risponde la Pietralunghese con Fumaria che impegna il portiere alla parata che manda in corner. Dallo sviluppo del calcio d'angolo la palla in aria e che fa partire una serie di tiri e di ribattute dove il casa del diavolo comunque riesce comunque a sventare ogni pericolo. Al quarantunesimo Casciari ancora in porta ma il suo tiro è fermato dal palo che ribatte. I locali riprovano ma il tiro è impreciso e va sulla rete esterna. Nel recupero viene espulso Biavati del casa del diavolo per una doppia ammunizione. finisce così questo incontro al sintetico di Ponte Valleceppi. Mister campionato impegnativo con questi turni infrasettimanali ma come abbiamo visto è stato positivo per la sua squadra quindi cosa dire note positive o negative? Soddisfatto? Molto soddisfatto soprattutto una bella partita. Quando si giocano tre partite durante la settimana non è semplice anche perché non ci siamo abituati. In realtà due squadre che hanno corso e hanno cercato di vincere la fine alla fine cercando di fare un calcio, un bel calcio, un calcio propositivo quindi sicuramente onora tutte le squadre in un campionato non semplice dove ha dimostrato che c'è tanto tanto equilibrio e che ognuno può dire la propria se ci crede. Bene quindi diciamo che torna con questi tre punti soddisfatto della serata? Assolutamente sì, volevo fare complimenti anche ai tifosi della Pietralunghese. Sempre calorosi. Un bello spezzato di calcio hanno tifasso per la loro squadra. Fornice sempre positiva. Bello sì, assolutamente sì, senza parlare troppo degli altri ma tifando la propria squadra non è facile vederlo quindi bello, complimenti. Mister Tassi della Pietralunghese, abbiamo avuto un altro turno infrasettimanale, molte assenze e purtroppo un risultato negativo che ci inchioda ai sette punti. Come sintetizzare in altro modo questa partita? Al di là delle assenze voglio parlare della partita. Ancora una volta siamo venuti a giocarsela nella maniera giusta. Abbiamo trovato un avversario che ci ha dato il filo da torcere, che correva tanto e ci pressava in maniera importante. Però comunque al di là di questo abbiamo sbagliato il rigore e credo che io se devo fare la conta un pochettino delle palle da golle che abbiamo create sono tantissime. Non mi ricordo neanche ma forse 9-10 palle da golle quasi incredibili da non buttare dentro. Purtroppo è un momento dove la palla non va dentro e al minimo errore prendiamo golle. Comunque merito agli avversari che hanno saputo capitalizzare al meglio le occasioni create.